flyer billy e l'f10 70 lavorato questa mattina siamo qui per ritirarlo fuori dopo il giro estivo per fare un'accensione penso alla candela infatti adesso andiamo a vedere mi dava dei voti spero che sia la candela 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 penso alla caffè non va bene, non potesse, non potesse pardon, perdite, 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 perdite Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peccato che stragraccia figlio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.